Musica La scelta è in questo visto, Isakson è in игрato, e la scelta è in giù. Non è in trame, non è in giù. Non è gol per la Argentina. Isakson è in giù, è in giù, è in giù, è in giù. Mi sono in giù, è in giù, è in giù, è in giù. La scelta è in giù, è in giù. Grazie. Grazie a tutti. Il fa' il spectacle Jérémy Jeannot. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.